Nei prossimi giorni si terrà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a richiederlo al prefetto Nicola Diomede dopo l'omicidio del giovane Marco Vinci era stato il sindaco di Canichetti e Ettore di Ventura. Il prefetto Diomede è intanto subito predisposto all'intensificazione dei controlli e della presenza delle pattuglie e delle forze dell'ordine su tutto il territorio comunale. Con l'imminente Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si svolgerà in prefettura verranno verificate le risorse di uomini e mezzi e si stabilirà come aumentare i servizi perché lo Stato c'è a Canichetti. Lo ha dimostrato concretamente a Favara dove si sono registrati dei fatti legati alla criminalità e lo dimostrerà anche a Canichetti dice il prefetto Diomede. I due episodi di sangue che si sono verificati a Canichetti ha detto il prefetto sono scollegati. Si sono purtroppo registrati in un ristretto arco temporale già durante i funerali del povero ragazzo ucciso ha spiegato il prefetto che era presente ai funerali. Ho avuto un attimo di tempo per parlare con il sindaco Ettore Di Ventura. Ci stiamo muovendo per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ancora il Comitato non è stato formalmente convocato ma si farà certamente in settimana. Occorre solo organizzarsi sul piano dei servizi esattamente per come è stato fatto a Favara e l'attività investigativa ha portato già oggettivamente a dei risultati. Lo stesso tipo di attenzione verrà data a Canichetti perché lo Stato c'è. Intanto i servizi sono stati intensificati durante il Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica stabiliremo, conclude il prefetto, come razionalizzare e ottimizzare le risorse sul territorio.